Si è conclusa con grande successo la quarta edizione di Festa Ambiente Alto Cilento, l'iniziativa dedicata alla sostenibilità e al futuro del pianeta che si è svolta a Oliastro Cilento e Torchiara. L'evento, organizzato dal Circolo Legambiente, anzi al case di Oliastro Alto Cilento e patrocinato dai comuni di Torchiara e Oliastro Cilento, oltre che dal Parco Nazionale del Cilento Valoriano e del Burni, ha visto un'entusiasta partecipazione delle comunità coinvolte e dei giovani volontari che hanno preso parte ai campi organizzati dall'Associazione Ambientalista. La Carmes, dal tema Un nuovo modo di abitare il pianeta, ha posto al centro delle riflessioni l'importanza di adottare scelte e azioni sostenibili per garantire un futuro più verde, responsabile e rispettoso dell'ambiente. La serata dell'apertura, che si è tenuta a Oliastro Cilento, è stata caratterizzata dalla presentazione del libro Vi teniamo d'occhio, scritto dal giovane autore Potito Ruggero insieme a Federica Taddia. L'evento ha offerto preziosi spunti di discussione e riflessione. La seconda serata, a Torchiara, ha ospitato un Torco Community dal titolo Un nuovo modo di abitare e generare comunità sostenibili per salvare il pianeta. Il dibattito, moderato da Adriano Maria Guida, membro del Consiglio Direttivo di Legambiente Campagna, ha coinvolto importanti figuri istituzionali di spicco che hanno risposto alle domande dei partecipanti del campo di volontariato Generazione Changemaker. La manifestazione si è conclusa con lo spettacolo musicale di Gio Chiariello Blues Trio che ha coinvolto il pubblico in un'atmosfera di festa e condivisione.